...umido, vario e umido in casa mentre tutto il resto va lì tipo vetro, plastica, cartone Siamo arrivati Ciao A 5 minuti a piedi da qui c'è un cazzo di lago artificiale bellissimo Finalmente amore potrai presentare nei tuoi video la tanto fattivica Vanessa germanica E' il suo dolce metà Albania, gommone e portami a Monaco Ma sapete che in estate a 10 minuti da qua c'è il lago di Sarge e Zimbabana Da qua? 10 minuti? A piedi, ma c'è il lago? Abbiamo un lago qua dietro Eh mi dili del lago... C'è un lago Intanto è come cercare... 1-9-1 Ah Columbusandra, ok Se la metto qui se lo steche Ibi La? Ce l'ha dietro Va vai, va vai vai lo stai冒na amore Dai Non lo mettete冒na amore No, pass'acqua Pass'acqua? Certo capo Fátila aprile dal boss Mettila muss… Mettila aumenti qua Mettilanutica E' un nada wolo, faccia di pello e cunarello faccia di cunarello o si mette così o si nasconde è tipo un video a scatti e dopo va nel video vlog nel video vlog del Time War a presto a presto a presto a presto a presto a presto